Salve, sono Marco Giamello del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente e insieme a Fabio Gabrielli del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali vi presento le superfici dei monumenti, lo strato dell'arte, la scienza applicata alla conoscenza e alla conservazione. Su questo argomento numerosi sono stati gli studi svolti da Andrea Bralia, Giuseppe Sabatini e Giovanni Guasparri nei primi anni Ottanta, nell'allora Istituto di Mineralogia e Pesografia, attività che poi sono proseguite fino al gruppo di ricerca di cui sono responsabile scientifico, conservazione dei beni culturali e archeometria del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. I componenti sono Andrea Scala, Alessandro Terrosi, Francesca Droghini, Sonia Mugnaini, Maria Grazia Nardelli, Cristina Fornaceddi. A loro va il nostro ringraziamento per aver prodotto la maggior parte dei risultati su questo argomento. Vediamo innanzitutto come si presentano le superfici lapidei. Qui possiamo osservare le tracce degli strumenti e anche altre tracce varie. Qui vediamo in questa immagine uno stemma realizzato su arena in aria, sulla quale però le superfici originarie sono veramente esigue. Infatti l'erosione ha portato avanti appunto un'asportazione della superficie stessa. Altre immagini che riguardano le superfici di materiali lapide, in questo caso un marmo aquano, che è interessato dalla presenza di biodeteriogeni, in prevalenza licheni. Un'altra formazione e alterazione che riguarda le superfici è quella dell'alterazione cromatica. Qui siamo in presenza di calcare ross ammonitico che, se lucidato, ha questo aspetto, ma se esposto all'esterno e non protetto, appare con una diminuzione del tono di colore. Questo fatto si realizza anche su altre rocce carbonatiche, come ad esempio il calcare nero, che da nero passa a grigio o grigio-giallastro. Questo invece è l'aspetto che si può ritrovare su elementi in serpentinite. Ci sono queste tracce grigiaste circondate da aloni più chiari. Per quanto riguarda il marmo, questa è un'immagine di un dettaglio di una colonna tortile, vedete che ci sono mancanze sulla destra, ma anche depositi superficiali più o meno coerenti. Quelli grigi oscuri sono verosimilmente dovuti a crosta nera, dovuti inquinamento, ma ci sono anche altre tracce marroncine che sono presenti sulla superficie. Ecco, per studiare le componenti di queste, chiamiamole formazioni superficiali, è necessario prelevare dei campioni. Sono in realtà micro campioni, come vediamo in questa immagine, le loro dimensioni, per consentire uno studio appropriato, possono anche essere intorno al millimetro quadrato. A cosa servono questi frammenti? Servono a fare analisi mineralogiche, con questo strumento, il diffattometro ad raggi X, dove i campioncini vengono inseriti in quella posizione indicata dalla freccia e la risposta è la serie di minerali che compongono la formazione stessa. Ma altre indagini che si possono fare attraverso lo studio di queste formazioni è proprio la definizione della microstatigrafia. In sostanza si tratta di realizzare sezioni perpendicolari alla superficie esterna e qui lo facciamo posizionandoli su vetrini, abbassandoli nello spessore e qui vediamo i due frammenti indicati dalle frecce celesti. Il vetrino poi viene posto nel microscopio polarizzatore, detto anche microscopio della mineralogia, attraverso il quale con varie luci si possono individuare e ottenere delle immagini che ci indicano i rapporti microstatigrafici e anche le variazioni dimensionali delle singole parti che le costituiscono. Si arriva a individuare anche parti intorno a un micrometro, cioè a un millesimo di millimetro. Quindi con queste tecniche siamo in grado di individuare non solo le componenti mineralogiche che compongono la formazione superficiale, ma anche la loro disposizione sulla superficie stessa. Uno dei campioni che ci ha dato maggiori informazioni e anche uno dei primi è questo, lo P196, che riguarda la fonte Gaia di Jacopo della Percia. L'opera più importante che abbiamo studiato è il Davide di Michelangelo, sul quale abbiamo potuto prelevare e studiare alcuni frammenti e qui ne vediamo uno di quegli studiati. Ci sono anche però molte attività svolte nel Centro Storico di Siena. Quel numerino 43 non riporta i campioni studiati, ma riporta i casi studio, come ad esempio nel caso dei Marmi, vedete ci sono nove casi studio e per ogni caso studio non c'è un solo campione, sono più e più campioni. E quello che stiamo presentando adesso è una sintesi di tutto il lavoro, in realtà è molto più complesso di quanto è possibile esporre in questi pochi minuti. Andiamo avanti e vediamo che la serpentinite riguarda quattro casi studio nel Centro Storico di Siena e ce n'è uno anche sul calcare nero, calcare nero utilizzato in passato per sostituire la serpentinite, calcare nero che però all'esterno si altera e diventa o grigio o giallo. Ci sono anche tre casi studio che riguardano il calcare rosso ammonitico e cinque invece sulla pietra da torre. 21 sono i casi studio invece che riguardano facciate il laterizio. Quali sono i risultati? Intanto la colonna che vediamo adesso sulla sinistra riporta l'aspetto macroscopico di queste formazioni superficiali presenti su queste tipologie di rocce e non solo, anche sui laterizi. Vediamo adesso in successione quali sono le microstatigrafie più tipiche, non solo le esclusive, ce ne sono anche variazioni sul tema. Vedete che per quanto riguarda il laterizi ci sono cinque tipologie diverse. Guardiamo anche quali sono i risultati ottenuti relativamente alla composizione mineralogica attraverso i raggi X. Vediamo che sono presenti vevellite, vedellite, ocre nero di carbone. Non vi impaurite di questi nomi vevellite e vedellite, sono ossalati di calcio e poi fra poco vi spiegherò a cosa si riferiscono. Queste sostanze variamente presenze, talvolta solo una oppure entrambe o con proporzioni diverse, addensate o molto rare, si ritrovano su tutte le superfici indicate. In particolare per quanto riguarda la vevellite e la vedellite ci sono di aiuto le fonti archivistiche, fonti archivistiche dell'Opera del Duomo che riguardano l'acquisto di materiali e di sostanze utilizzate per la costruzione e il trattamento del Duomo di Siena. Ecco, in questo caso le notizie che sono riportate nel volume Costruire una cattedrale, interessante volume di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli. Cosa riportano queste note? Intanto l'utilizzo di olio di semi di lino che si adoprò per l'ingere marminerie. Queste sono notizie riportate più e più volte. Quelle più antiche vanno nella seconda metà del 1200 fino al 1200 e le altre fino al 1300, primi decenni del 1300. Ecco, però ci sono anche altre notizie che riguardano le ocre e il nero di carbone. Come vedete olio di semi di lino che si adoperò al marmo rosso e nero per due libri di sinopia e per due libri di nero. Marmo rosso si intende il calcare rosso amoritico, quello nero la serpentinite, la sinopia si tratta in sostanza di ocre rosse e il nero è nero di carbone. Quindi tutto questo porta a farci vedere come anche in passato ci sono documenti che testimoniano la presenza di antichi trattamenti delle superfici. Ecco, e qui possiamo fare un approfondimento sulla tecnica di Giovanni Pisano nel settore della facciata del Duomo, da lui progettata e da lui seguita durante la realizzazione. Vediamo che ci sono due livelli in sezione sottile, vedete, quindi è una cosiddetta pellicola complessa e da tutti i risultati ottenuti al microscopio abbiamo potuto vedere qual era l'aspetto originario delle pellicole applicate in quella situazione. Non era certamente quel marroncino che vediamo sotto il bisturi. Era un altro colore, quale? Questa che viene qui rappresentata sulla destra è una rastina di marmo della montagnola sinese. Non è un marmo bianco assoluto, ci sono dei noduli talvolta delle vene grigie. Ecco, con il trattamento diciamo alla Giovanni Pisano abbiamo ottenuto questa colorazione che non è altro che un bianco avorio. Questo tendeva ad omogeneizzare tutte le varie differenze che ci sono nei conci del Duomo di Siena in marmo, realizzato con marmo nella montagnola sinese. Ma ci sono anche delle problematiche interpretative. Ad esempio, sempre per quanto riguarda la pellicola di Giovanni Pisano, che è quella indicata con la freccia bianca, aveva questo aspetto giallo, mentre tutto intorno, in un certo periodo, l'erosione aveva portato a far vedere il marmo. Ecco, in un intervento del quale non sappiamo la data, è stata riportata una sostanza, o meglio, un insieme di sostanze a ricoprire il marmo, ma con una cattiva interpretazione. Cioè è stata riportata con un colore uguale a quello della pellicola originaria alterata come colore. In sezione si vede anche come la seconda finitura, il secondo trattamento, ha una diversa tipologia, diciamo è più grossolana. Guardiamo anche quali sono gli scopi per cui le altre rocce e latrizi sono stati trattati. Per quanto riguarda la serpentinite, il trattamento ottiene un effetto bagnato, quindi un aumento del tono di colore, si raggiunge un bel nero, verde scuro quasi nero. Nel calcare rosso ammonitico il trattamento è invece coprente per uniformare il colore rosso, naturalmente. Per quanto riguarda la pietra da torre, il trattamento è trasducido per uniformare il colore di questa pietra che si presenta, come sapete, anche variamente brecciata. Infine i laterizi. Qui ci sono trattamenti diversi per tipologia di elemento architettonico o decorativo. E qui vi faccio vedere il paramento del palazzo pubblico in corrispondenza del sottotetto della cappella di piazza. Si tratta di un innalzamento avvenuto nel 1470, attraverso il quale la facciata del palazzo pubblico è stata esposta per poco più di un secolo. Quindi adesso mantiene non alterate tutti i risultati dei trattamenti impartiti alle superfici. In particolare, dopo aver analizzato vari campioni per ogni elemento di cui vi sto parlando, vediamo quelli del paramento, la sezione che riguarda i mattoni decorati a graffiature, che avevano, come si vede nella sezione, un primo livello rosso e a coprire una sostanza, è beveglite, che è riferibile a olio di lino. Vediamo anche il bardellone, la cornice che fa dal passaggio dal palamento ai cunei dell'arco. Ecco, questa aveva una colorazione più tenue, un rosa, mentre invece i cunei dell'arco riportano una colorazione rossa equivalente più o meno a quella dei mattoni del paramento. Diverso invece è il caso degli archetti trilobati, dove la presenza di nero di carbone imprime da un tono più scuro ancora di rosso agli archetti trilobati. Quindi non sono finiti qui i trattamenti sul mattone, ma c'è anche la presenza di sola beveglite e quindi solo olio di lino anche su mattoni di non particolare pregio. Ecco, quindi tutto questo ci porta a individuare molti casi che ci indicano la presenza di trattamenti antichi e anche di loro interpretazioni successive sulle superfici dell'architettura storica, monumentale o meno, non solo sul marmo e altre tipologie di pietre, ma anche sui laterizi, a costituire ciò che possiamo definire le superfici a faccia vista. Si ribadisce anche l'importanza di riconoscere, come sostenuto da Cesare Brandi riguardo alla cosiddetta patina del tempo, in occasione di interventi di restauro, riconoscere e conservare le tracce di queste antiche finiture, perché una volta rimosse, come è avvenuto spesso in passato, perdiamo per sempre la possibilità di conoscere i trattamenti e quindi i colori originali. Ecco, prima di terminare del tutto la presentazione riporto i nostri riferimenti, i miei e di Fabio Gabelli, così se qualcuno ci vuole chiedere qualcosa sa dove trovarci. Questa è la mia immagine con la quale ringrazio tutti coloro che ci hanno consentito di portare avanti le ricerche, in particolare architetti, restauratori, dirigenti della soprintendenza del Comune di Siena, archeologi, storici e tutti coloro che ci hanno permesso di salire sui ponteggi e indagare le opere che stavano restaurando. Un grazie anche a voi per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.